Ieri sera il sindaco Seri ci ha espresso in consiglio comunale quanto è venuto in evidenza dall'incontro di sabato con l'assessore Mezzolani e il sindaco Ricci. A questo punto c'è sorta una domanda spontanea che era quella di dire qual è la posizione del sindaco o comunque della giunta del comune di Fano. La risposta secondo lui non è stata esaustiva in quanto c'è risposta che secondo lui non è giusto il sito di Muraglia di Pesaro ed è finita la sua domanda lì. Noi a questo proposito abbiamo anche un'idea quindi abbiamo una posizione da proporre sia al sindaco, alla giunta ma anche alla città di Fano ed è quella di un sito che è quello di Chiaruccia che è baricentrico, è ben servito dalle infrastrutture e comunque anche di proprietà comunale e non serve per questo essere espropriato. Un altro sito è la plana di Narzilla quindi per dare anche un'alternativa in una fase di decisione per non essere comunque poi troppo restrittivi nella nostra indicazione del sito insomma. Grazie.